Da quanto in qua ci sono i serpenti? Dammi un lanciafiamme Voglio un lanciafiamme immediatamente Io non mi avvicino senza lanciafiamme A coltello non ci prova ad ammazzarlo a quel coso Te lo dico immediatamente Cioè mette le rose e ci uscite? Non ne ho idea ma non mi ci voglio avvicinare ok? Sto morendo di paura Oggi bisogna essere coraggiosi No oggi si Ragazzi come va? Io sono Fiorinichi Io sono Stef e che siete che mi ha stranded deep? Ebbene sì siamo tornati nella nostra bellissima isola dei pini In questo episodio cercheremo di continuare l'esplorazione Perché ci servono sia diverse cose come ad esempio le ceste Quindi cercheremo di trovarle E sia vedremo se riusciamo a trovare qualcosa sott'acqua Magari qualche berrelitto da esplorare Vediamo un pochettino Esattamente siamo felicissimi per questa serie Perché ormai i commenti durante la settimana Sono costantemente quando ci chiedete Quando esce l'episodio successivo di strange deep Quindi ne siamo felicissimi che vi stia piacendo Anche noi lo stiamo adorando insieme a GTA Siamo davvero felicissimi di quello che stiamo portando nel canale in questo periodo E direi che possiamo iniziare Abbiamo la fortuna che guarda un pochettino Sono adesso le sette del mattino Quindi abbiamo tutta una giornata di luce per una volta Io ho visto un pochettino così non capivo se fosse l'albo il tramonto Quindi ho detto non dirmi All'inizio ho pensato fortuna Ho detto non dirmi che sta tramontando il sole Perché tu pensi sempre negativo Sì sì contando le nostre vicende nelle isole Nelle tassele non va mai mai bene Allora partiamo prendendoci il secchiello Ce lo beviamo subito Lo rimettiamo qua Ehi Secchiello Secchiello Sì per fortuna Nella nostra stessa isola Sì Quindi miriamo qua Ok E non portare sfiga con le nuvole che ti ho sentita Che portiglielle ci piove addosso e Pasqualo ci morsica tutta la zattera Manca solo capito Una tempesta in mezzo all'oceano Già Cioè proprio di male in peggio È l'unica cosa che manca Per la legge della nebbia teoricamente manca poco perché adesso scompare la nebbia Dici capare la nebbia e poi compari l'isola Preparati perché va sempre a finire così Siamo troppo in mare aperto Io te lo dico già Eh lo so Sto provando un po' di fastidio Guarda Giusto un pochino Scompare la nebbia No non sta scomparendo Adesso veniamo inghiottiti da un uragano Io me lo sento Houston stiamo iniziando ad andare un po' troppo lontani Eccola Vedi che scompare la nebbia arriva Ma è un'altra isola dei Piri È un'altra isola dei Piri Allora Non sappiamo più dove è la nostra Vabbè Vabbè Ci pensiamo al ritorno Ok Dicevo No ma aspetta Dimmi È la nostra No è impossibile C'è lo stesso aeroplano rotto Eh l'ho capito ma è impossibile Parcheggio la giattera Terra Finalmente No sì è diverso È diverso È meno male che te ne sei convinta Anche se poi c'è sempre quel pezzo di aereo Che non comprendo bene Magari un altro pezzo Sì sì No è diverso È diverso eh Ok fammi vedere un po' Sì 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 È proprio diverso In acqua sembra che non ci sia nulla interessante Sì questa è una nave Hard case Una torcia No vabbè E ce la possiamo portare a casa questa Io la vorrei come scatola dove conservare le nostre cose Scusi Ti possiamo prendere Oh yes Adesso vediamo anche di notte Non abbiamo più bisogno di dormire per forza Esatto La notte saremo un po' più tranquilli Beh questa ormai da l'isola dei pochi pini e l'isola della torcia Sì Bisogna proclamare Dei pochi pini e della torcia Non ce la bisogna anche dei pochi pini Pensavo di raccattare un bel po' di foglie Perché queste le sai Sì 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 Essenziali Che sono sempre molto importanti Quindi ce le portiamo a casa parecchie A Coco sono indeciso Perché ne abbiamo ancora tipo sei Però magari un po' ce li portiamo a casa prima di andare Vediamo in base a quello che c'è Se c'è roba più interessante No di vedere bene che magari troviamo anche Orario Qualche altro materiale Luna Di particolare Ti dico una cosa Prestissimo Partiamo massimo alle 16 per tornare a casa Perché se fa buio Mentre siamo in mezzo all'oceano Non mi farei una cosa del genere Perdiamo per i nichi Non me lo farei mai nella vita Mai Ti perdiamo proprio per sempre No no cioè Allora io me ne vado Tu finisci e poi torno Quando sei in un posto che non si muove come il mare Niente di nuovo A parte la torcia Dai secondo me possiamo essere soddisfatti Perché comunque la torcia È una dritta incredibile E poi guarda 4, 8, 12 8, 8 Che fa 16 Dai non è male È un buon bottino No assolutamente Lo so che tu vuoi scoprire l'America però No volevo magari qualcosa di nuovo da craftare Capito cose del genere Un po' per Per poter migliorare la nostra base Da craftare per la base abbiamo un sacco di roba Che ancora non abbiamo provato a fare E ora che abbiamo tutte queste foglie Tutti questi materiali Teoricamente possiamo permetterci di farlo Ma guarda che bello Proprio col tramonto Per avere una visione meravigliosa Della nostra isola dei Pini Siamo rientrati E ho notato Ok Che qui in mezzo agli scoglietti C'è un altro pezzettino di qualcosa Che forse è di questo aereo Non so se l'avamo già visto Sicuramente dai almeno un minimo uno sguardo Passandoci vicino Per capire se magari c'è un'altra scatola Sai ormai mi sono già infogato con queste scatole Ne hai trovato una ne vuoi trovare tante Esatto No sembra proprio inutile Sembra solo un pezzettino di nulla Però controlliamo meglio qua dentro Che magari c'è un'altra cesta Ma in effetti non l'abbiamo mai guardato dentro L'abbiamo sempre snobato L'abbiamo sempre snobato Ma ti immagini se c'è qualcosa adesso L'abbiamo sempre Di preziosissimo Cioè no Non ci voglio credere Fammi vedere Ti prego dimmi che almeno è vuota Allora No non ci credo L'hai vista? Sì Se l'avevamo a casa Ma perché stiamo così? Bravissimi Cioè il bello è che l'abbiamo No pure Dimmi che anche questo non c'era pure lì No ti prego No l'avremmo visto È un motore Vedi che è ragione No il fuel tank credo sia il serbatoio Prendilo Tu prendilo Ho l'inventario pieno cara Abbiamo fatto delle scoperte meravigliose No siamo nei tantoloni Non ci credo Non ci pensare più Non ci pensare più Siamo i migliori sopravvivitori Sopravvivitori Hashtag sopravvivitori Se siete riusciti a scrivere a modernamenti Riuscirete a scrivere anche sopravvivitori Guarda Guarda I sopravvivitori Quando fa buio Hanno una torcia Oh no Io sto ridendo per non piangere Perché questo è un fail Che secondo me andrebbe tagliato E non ho fatto vedere E invece Perché tu lasci Allineare i consolini Così loro che pensano Noi ho sobravissimi a giocare Stanno capito Sopravvivere benissimo E invece noi facciamo costantemente figuracce Non è molto bello Capito E vabbè Devono vedere tutti gli aspetti Della sopravvivenza Gli alti e i bassi Altrimenti Non è una vera sopravvivenza Altrimenti Sì che alle 18.30 c'è un buio pesto comunque Guarda che bel deposito di cocco Stupendo Non hai mai visto uno così bello No no assolutamente Grazie Allora Adesso che abbiamo l'inventario Un pochettino più libero Andiamo Qua comunque c'è un frutto Il cura fruit Che ancora non abbiamo assaggiato Dovremmo assaggiarlo Magari è buono Esatto Magari ci risalta parecchio E diciamo Che ci sono dei nuvoloni No tranquilla Tutto a posto Ok Il nostro meteo dice che c'è una bellissima luna Vedi Tutto a posto Luna C'è lo sereno Sempre aggiornati con il nostro orologino Un po' di pipistrelli Che vanno avanti e indietro Però quelli ci sono sempre Esatto Esatto Oh mamma mia però eh Ma sei sicura? Pasqualo Mi stanno avendo i brividi nelle gambe Guarda Se sei qui Pasquale Ci stai sentendo Allontanati Ok Noi vogliamo Vai a dormire Soltanto vedere cosa c'è Cos'ho No io ho visto qualcosa Anche se non c'era nulla Non c'era nulla No 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 Io vado a dormire Hai fatto troppo bene sto gioco Cioè non mi può far senso vedere il gioco Io non ci credo No 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 Era di dormire La mamma ci sta chiamando Andiamo a nanna Ho capito che non faceva per me Mi è sembrato di aver visto una cosa Stavo già per vomitare Fammi dormire va Allora Salva per favore Che qua stiamo andando alla grande Bisogna salvare tutto quello che facciamo E dormi Ti prego almeno le sei del mattino Dai Figuriamoci Che era è Le cinque È tornato giorno Oggi piove Quindi prontissimi con i secchielli Così ci facciamo un bel po' di acqua Ma prima di tutto Torniamo lì E vediamo davvero che cosa c'è Sì assolutamente La torcia Non si sa mai Potrebbe esserci pasqualo In pieno giorno con la torcia Comunque No 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 Oh mio dio No, allora Se tu hai problemi con l'oceano e gli squali A me i serpenti non fanno né caldo né freddo Ho problemi con... no Da quanti in qua ci sono i serpenti? Dammi un lanciafiamme Voglio un lanciafiamme immediatamente Io non mi avvicino senza lanciafiamme A coltello non ci prova ad ammazzarlo a quel coso Te lo dico immediatamente Io non ci provo Non ne ho idea ma non mi ci voglio avvicinare Cioè cosa possiamo costruire? Allora, una ascia ma non me la sento Una spear può essere una buona idea Ok, un martello Un martello voglio No, ma anche le frecce ci possiamo fare No, allora costruiamo qualcosa Una spear perché almeno sei un po' a distanza Ok, dateci questo pezzo di legno che ci facciamo una bella spear E andiamo a sistemare il serpente No, oggi è una cosa dopo l'altra C'è pure il serpente Un'emozione dopo l'altra No, cioè incredibile Allora, spear Dov'eri? Una bella lancia Eccola Hoppla Ok, eh dai Hoppla Stiamo ragionando Hoppla Io l'avrei migliorata anche con la pietra La puoi anche tirare giustamente? Sì, vado L'avrei migliorata anche con la pietra No, 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 no Non ti puoi Non c'è Non fa vederti correndo così con la Oh, che schifo Fai proprio schifo Ho un solo tentativo Aiuto Che schifo No, non la lancia No Aspetta Oh no Oh no, riprendilo ti prego Ok Che schifo Mori Ma fai schifo anche te Che cavolo Concentrati Il combattimento meno entusiasmante del mondo Mori Devi fare una parabola Perché lo vedi che va troppo Cioè per prima di avvicinarti con coltello No, paura Fermo immobile Cioè non puoi non prenderlo Che fermo da due ore Ecco qua No, no No, ragazzi Io Me ne vado No, 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 no Vi prego Sono ancora giovane Ho una vita davanti Stiamo ancora caldo Cioè se vedi la lancia a muoversi Allora Serpente Ti lasciamo a metà dell'isola Lasciaci l'altra parte Ma dobbiamo andare a prendere Non mi interessa Ma ci serve Non c'è nulla di utile lì Ma dove è finito? Non lo so Ma perché ci capitano queste cose oggi? Aspetta Cosa ci è successo? Aspetta Prova a fare un'altra Magari Con due lo ammazziamo Non lo so Io non ci credo Lì non c'è più Cioè spari Contro la stai Vedi la tua spia in giro Ecco lo vedi? No Vedo la spia Robli qua lì lontana Ma c'è l'altro serpente pure Lo vedi qua? No Ce l'aveva con l'altro serpente prima Cioè stavano litigando tra loro Ma è morto? Sì Non lo so No Perché adesso siamo pieni di serpenti? Io vado in un'altra isola a vivere Fai parabole Ricordati Ma vabbè non ci credo Devo affrontarlo Sto per vomitare Ma lo devo affrontare No anche perché se mi viene una da dietro Giuro che cancello il gioco Lo disinstallo Non mi frega nulla Finisce la serie dopo tre episodi Stavo dicendo Ero felice che Consolini piace Ma no ragazzi Non mi frega più nulla Se ci sono i serpenti Arrangiate La fa qualcun altro sta serie Ve lo dico Allora Ho una nuova tattica Ci muoviamo solo in acqua No Non trovoi un compromesso qui eh Tu sei l'uomo E devi essere coraggioso Quindi tocca a te Affrontare i serpenti Tieni lì per te questi ideali Non a me Affrontare Un'altra torcia però dai C'è tutto questo disastro Per una torcia Questo però ce lo prendiamo Tu hai detto una via di mezzo giusto? Sì Facciamo i giri col gommone Ok Va bene? Accetti? Sì accetto Ok allora aspetta Facciamo così E facciamo tutto il giro dell'isola Per evitare due serpenti No non ci credo Invincibili Non sono serpenti normali quelli eh Perché un serpente normale Con una spia muore Ma trovi qui sotto Qui sotto Perché con quel relitto Non sappiamo se sott'acqua c'è qualcosa Sicura? Eh dai guarda Troviamo qualcosa di interessante Sto morendo di paura Oggi bisogna essere coraggiosi No oggi sì Devi smetterla Devi smetterla di farmi paura però Non ce la posso fare Oggi siamo fortemente impressionabili Oh mamma mia Siamo persone terribili Io te l'ho detta che siamo persone Facciamo schifo Aiuto Tutto ok Tutto ok Sì ma adesso Cose che capitano a chiunque Ok Va bene Scusate che tutte le serie Sto mostrando il dipendolo Sì sì certo È standard Ma sta fluttuando Ma cosa sta succedendo In quest'isola Cambiamo Andiamo via Io spero solo che adesso Non siamo tempestati Dei serpenti eh Perché non li avevamo mai visti E vederne Il cinghiale qua è vivo Lui è felice Lui è felice Cinghialozzo tutto ok là Prima di concludere questo episodio Proviamo a farci un arco E vediamo se i serpenti sono invincibili Perché sinceramente a me Cioè ormai non segnalatore No perché altrimenti Un lap 5 neanche lo faccio Finisce così Lasciamo qua tutto Molliamo Lasciamo i cinghiali da soli Lap 5 Mi sa che questo è il 3 No questo è l'ap 4 Questo è il 3 Questo è il 4 No è il 3 È il 3? Sì No è il 4 No è il 3 È il 4 Allora io apro il nostro canale adesso Ok controlla E ti dico quanti episodi Stiamo messo sicura Che questo è il terzo Quindi nel caso Non fai il quarto Sto preparando un banchetto di cocco Allora Sto controllando C'è due ore per entrare Nel nostro canale Lo so Che buono questo cocco Come siamo messi Due ne abbiamo fatto Davvero Questo è il terzo È l'ap 3 Sì Allora hanno ragione Hanno ragione a chiedercelo sempre Siamo troppo lenti Con Trendedip Dai mo facciamo un episodio Tutti i giorni Per dieci giorni No Stavo scherzando Che poi ce lo chiedono tutti i giorni Per dieci giorni Ed è un problema Allora mangiamo cocco Come siamo messi Ok Parabola o dritto Non ne ho idea di come funzioni Dritto No comunque non si possono vedere Con quelle cose in testa Mamma mia Dov'è 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 Prova a colpire questa È morto Morto Sì Giusto Sì È morto Dov'è l'altro Ok L'altro è lì Lo vedi ancora No Sto per vomitare La puoi riprendere Riprendila Disgraziato Siamo noi Il re dell'isola De Pini Ci abbiamo fatto Sei più tranquillo adesso No no Mi fanno schifo Anche così Cioè li devono togliere Ma la puoi riprendere Almeno lascia Decomporri istantaneamente Che di No Che è successo Perché si è buggato Non ci credo Siamo morti Ma che bug era Sei volato in alto Esatto Abbiamo perso tutto Esatto Gli serpenti sono di nuovo vivi Sì Tutto quello Dopo il salvataggio Che ho fatto Che mi sa che era dopo Dimmi che almeno Nellisa L'eravamo andati Sì Perché poi Abbiamo Sì Era per dormire Quindi praticamente Ho fatto risuscitare Due serpenti Basta Si sono vendicati Ci fermiamo No si sono vendicati Perché li hai uccisi Quindi se l'ha fatto morto Le quattro Non ci sarà Mi dispiace L'annuncio adesso Consolini Non uscirà mai Dai fermiamoci così Ovviamente sto scherzando Continueremo Però ci dovremo Armare decisamente meglio Perché quei serpenti Probabilmente per il prossimo episodio Farmiamo un pochettino Io cambio isola Ho pensato che è l'unica soluzione O noi o loro Anche se li ammazzo Ricompaiono Siamo bellissimi La prima volta che non me ne accorgo Mi morsica la chiappa E va malissimo Ma no Io vado a vivere Sopra un pino Ti dicevo Dobbiamo farmare un pochettino Non vivi per terra Non sopra i pini Non sia una scimmia Ok E posso essere E prepariamo un sacco di armi Appunto Sia per i serpenti Sia per gli squali Se magari dobbiamo fare Qualche altro viaggio Perché oggi abbiamo avuto fortuna Solo nell'acqua Non nella terra Ok Quindi dobbiamo farmarci Anche perché vorrei espandere Un po' il rifugio Dai siamo un po' dei poveri Lì dovremmo mettere qualcosa di meglio Beh ragazzi Scrivetevi Se ci sono già Staci di giù E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao